Ultimato il nuovo centro di raccolta dei rifiuti nel comune di Vallo della Lucania, a parlarcene ai nostri microfoni il primo cittadino, Tony Aloia. Noi abbiamo ultimato il primo centro di raccolta che abbiamo, tra qualche giorno lo renderemo attivo, questo per far sì che i cittadini abbiano questo servizio in più per poter effettuare una corretta raccolta differenziata. Il problema grosso però resta anche lì, il senso di responsabilità da parte di tutti i nostri cittadini. Oggi dobbiamo con amarezza dire che nell'intero comprensorio cilentano assistiamo a un abbandono dei rifiuti per strada che è scandaloso, non basta vedere la superstrada, è una cosa veramente vergognosa, una cosa che piange il cuore guardandosi intorno, il paesaggio e la fortuna che abbiamo dove viviamo e come lo stiamo rendendo questo territorio. è una cosa veramente da rabbrivedire, per cui è l'invito a tutti quanti i cittadini di rispettare di più l'ambiente in cui siamo, non è possibile tutto ciò, questo qualche anno fa non accadeva, la nostra superstrada è piena di rifiuti, è uno scandalo, guardate su questo delitto alla natura, perché è un delitto alla natura e all'ambiente in cui noi viviamo, io sono molto molto rigido e inviterei tutti quanti ad essere rigidi, noi da poco abbiamo installato a ballo circa 70 telecamere con una videosorveglianza di alto livello che tra qualche giorno sarà attiva, ma non avrò tolleranza con nessuno, chi abbandona i rifiuti per strada sarà multato e sarà perseguito in termini di legge.